No no no, dì no, dottore, dottore, vuoi bloccare tutti i vostri, dottore? Almeno datemi le chiave. Eh no, spostala a mano. Ma come? A quanto tempo è stato? Un po' che minuto, maronna, ma quando è scocciante questa? Uè, e stammi vicino, che io addosso ho i soldi contanti, hai capito? Tu mi devi stare vicino. E calma. Appattato. Sì, non ti preoccupare, con calma. Ma sei sicuro che sono le Nikon F4S, quello con doppio bussante a scatto? Ce l'ho già uno io, tale quale! L'ho pagata 3 milioni e 850 mila lì. Eccolo, eccolo là, quello lì, vedi? E' quale? Quello lì, quello sì, così, qui là lì. Quello è uno che ha assistito i soldi, non è come te cassino a me, me, me. A妞. Eccolo, ecco, czego preciso. Eccolo, ecco. Eh, ecco. Uhhh terminantno, ecco. Vede. Eccolo? E' su, ecco qua, piano, piano, ah sì sì, e ce l'hanno il doppio pulsante. Ma sei sicuro che sono rubate? Sono state pigliate, ieri martedì la mano a due giapponesi. Allora, che dovete fare? Le volete prendere? Tutte e due, quattro milioni. Ma che sei scendendo? Facciamo tutte e due, 500 milioni. Ma Pamarone, mi potete rovinare. Facciamo tutte e due, tre milioni. No, ma 800 milioni. Ma non è possibile, abbiate pazienza. Io tengo famiglia, e scusate tanto. Quando vi prego, facciamo tutte e due, due milioni. No, invece facciamo tutti e due. Un milione e basta così. E va bene. Un, un, tre. Mannaccia molto, manaccia. No, no, sta piovendo. Apri, apri, apri. Mettiti, apri, apri. Vai, 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 vai. Ti dì? E non si volevi venire? Eh, ma me lo sei rivegliato, tu che vuoi. Da sette milioni e settecento mila lire. Per la misera somma di un milione, ci siamo portati a casa. E niente, po' di pieno che... F4S, con doppio pulsante, che v'è morta. Magia morte. Ma io lo denunzio. Mi l'ho fattuto. Ma io lo denunzio, me lo faccio arrestare a sta caragna. Grazie, dottor, grazie. Grazie di voi. Ma dove stanno commistariati qua? Ma che stanno? Mi hanno fatto il pacotto pure a voi. Grazie a marito. Ma dove stanno? Là dietro. Era uno secco, secco, tutto nero, che capilla e spannata. Eh? Si chiama scarrafone. O conus. Dipende. Da chi? Da me non c'è sta niente. Ma perché voi potete... Andiamo. Ma non c'è niente. Eccolo qua. Ascolta. Ma secondo voi... Aspetta, un momento. Ma secondo voi, io vi davo due niconi che costano 4 milioni all'uno per un milione. Eh vabbè, ragione. Ma vedi, che puoi fare? Questi sono bravi persone. Eh, mamma. Se mi dà un altro milione, io vi consiglio le macchine, veramente. Scarrafone. Vi dongo un milione a te. Aspetta, non ti preoccupare. Io le macchine vi le consegno a lui. Quando lui vi consegne le macchine vuoi gli dare i soldi. Vabbè? Aspetta. D'accordo? Aiuto! 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 Sì, aiuto! Sì, sì, dottor Rai! Mi dà il signo, mi spiegherò il mio amore! No! 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 Dottor, dottor, guardate a me. E macchine, i piccari. E' un po' di... Ah, ma... Ah, ma... E' piccari. Ah, ah, ah... Oh, fenomeno. Quanto pacco, quattro pacco. Uno, due, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dici. Guardate a voi! Ah, ma... Ah, ma... Dottor, dottor, il Nicolo, il Nicolo, dottor, e macchine, e macchine. A me, per me, non ci sta niente. Facci da un presto, regalo, regalo per me. La polizia, la polizia, fuì! Non perdiamo la calma. Andiamo, papà! Ma, ma, ma... Alla, alla. Andamia bella, andamia bella. Ehi! Che è? Ehi! E la Sirì? La Sirì? Ma quale polizia? Ma quale polizia? Ma quale polizia? Gesù, Gesù, ma come cazzo ha fatto a scambiare il pacco? E per forza! Tu ti sei messa a guardare la femmina nuda. E perché tu guarda guardarla? La femmina nuda. Scusate, ma c'è almeno una speranza di trovarmi? Di recuperare i soldi? E adesso vediamo. Ma che vediamo, marescià? Noi siamo i figli del costruttore Ghiglione. Ah, sì? E fatelo venire. Con questi ha voglia a costruire. Va bene, come sta? A disposizione. Aggiorni, dottor. Permettano? Se lo signore vi consentono. Questo è il materiale proveniente da sopra al petraio? Sì. Gli hanno fregato uno o due volte? Due? Pacco e doppio pacco. Scarafono e forno. Ma allora voi li conoscete? E glielo potete dire voi al maresciarlo? Questo è l'ultimo posto dove dovevate venire per una truffa del genere. Aspettate, ma che significa l'ultimo posto? Io li avrei già restati a tutti quanti, invece noi, io sono un ex maresciano dell'arma, diamo le mani legate. Glielo darei io il garantismo. Perciutti. La verità è che uno li dovrebbe fottere con le loro stesse armi. Eh, maresciano, e come? Gli hanno fatto il pacco e il doppio pacco e uno gli fa il contropaccotto. E che è il suo contropaccotto? Però il commissario non deve sapere niente, eh. Venite a presto a me. Eccolo la maresciata. E' quello del secondo pacco, il parcheggiatore. E con noi si doveva una vecchia conoscenza. E non arrestate? Ssss! Volete le macchine fotografiche? E allora statevi zitti e lasciatemi fare. Guardate, attenzione. Ecco, adesso spinto la mano di scarafone. Ecco, lo scambio e il pacco è fatto. Disgraziata, fermate! Fermate, polizia! Grazie! Non lo vorrete, ci sentirei! Mamma mia, disgraziata! Disgraziata! Venite qua. Ecco qua. Grazie. Come grazie? Questo è il corpo del reato, è roba sequestrata. Non so se possiamo. Potete, potete. Allora, ecco. E questo è tutto. Non abbiamo più niente. Va bene, andaccia andata. Grazie. Uscite subito dalla zona che quelli che hanno visto. Se non si via, a Ciappone, vi fanno il culo tanto a tutti e due. Andate! Ehi, vai qua. E va a mangiare, papà, capite? Si fa fredda. No, papà, già ti lo ricordo, mamma era tu. Oggi ci sta il minestrone, lo vuoi? Ehi, magari col due codi, che va? No, signore, che ti fanno male. Dagli due patate bollite. Bene. Eccci! Oì, sembra tutta spugliata, mi sa che lì scala piena d'umidità. Non ci sta un'altra che... Lina, tu che dici? Io dico no. Sei andata a scuola? È domani che bisogna iscrivervi un guagliore. Eh, e si debbono comprare pure un sacco di libri. Ci vogliono assai soldi. Proprio adesso me lo devi dire. Che? Ti fa male un'altra volta lo stomaco? No, cazzi, ma io. Questo è nico, mio nipote fa il fotografo, sarebbe interessato a comprare. Quelli soldi li tiene, li paga bene. Senti, noi queste teniamo. Con queste qua dobbiamo vivere tre famiglie, vedi? Fa una cosa, ammelo poche vino rossa, va. Un po' di vino me lo posso prendere? Sì, ma poco, se no poi la notte non dormi. Ma se non dormo non hai far il fritto. Oye, fa una cosa, basta passarlo, ieri. Anna Maria! Ehi, Anna Maria, poti fare il suo fritto al papà?